La riunificazione degli uffici giudiziari di Chieti, che consentirebbe un risparmio sulle spese, sembra più vicina dopo l'incontro di ieri in provincia. Un investimento di circa 5 milioni di euro che vedrebbe da una parte l'acquisto per conto del Ministero dell'edificio che ospitava l'ex ospedale in Viarnienze per dislocarvi la procura. Dall'altro la realizzazione di un nuovo edificio a ridosso del Palazzo di Giustizia nel quale sorgerebbero gli uffici destinati ai giudici di pace e ufficiali giudiziari. Il Comune, a sua volta, in caso di accorpamento degli uffici giudiziari a livello provinciale, offrirebbe la disponibilità dell'edificio dell'Istituto Santa Maddalena, situato in pieno centro storico, che potrebbe ospitare gli uffici giudiziari di Lanciano e Vasto. Ma la priorità per il momento resta invece quella di avere una nuova sede per la procura che è attualmente alloggiata al Palazzo delle Poste in Via Spaventa. Soddisfatto si è detto nel corso dell'incontro che si è tenuto ieri in provincia a Chieti il commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, che fu l'ideatore della riconversione delle caserme Berardi e Bucciante con l'obiettivo di utilizzarle per ospitare uffici statali e scuole. Ora il prossimo step sarà la conferenza dei servizi entro aprile per rendere possibili le operazioni dal punto di vista tecnico, mentre si lavorerà ad un protocollo d'intesa tra Comune, Provincia e Asl per arrivare a concludere i lavori e veder sorgere la cittadella giudiziaria entro tre anni. Un progetto, secondo il Sindaco Ferrara, strategico per la rigenerazione della città.